Buon pomeriggio e ben ritrovati ad una nuova edizione di Prima News, l'informazione regionale a cura della redazione di Prima Antenna. Continuano i botte risposte in merito al rischio oncologico derivante dall'utilizzo prolungato nel tempo del telefono cellulare. Intanto sono state depositate le motivazioni della sentenza del Tribunale di Brea, che qualche settimana fa aveva condannato l'INAIL al risarcimento di una rendita vitalizia ad un lavoratore che aveva utilizzato per tanto tempo il telefono cellulare per lavoro. Nelle motivazioni il giudice fa da paragonato numeri alla mano l'esposizione al rischio oncologico per uso massiccio e prolungato nel tempo di telefoni cellulari a quello dei sopravvissuti alle esplosioni nucleari di Hiroshima e Nagasaki dell'agosto del 1945, epilogo della seconda guerra mondiale. Ma facciamo un passo indietro e ripercorriamo nel servizio la vicenda. Per la prima volta al mondo una sentenza riconosce un nesso tra l'uso scorretto del cellulare e lo sviluppo di un tumore al cervello. Lo annunciano gli avvocati Renato Ambrosio e Stefano Bertone dello studio legale torinese Ambrosio e Comodo. Il Tribunale di Brea ha infatti condannato l'INAIL a corrispondere una rendita vitalizza da malattia professionale al dipendente di un'azienda a cui è stato diagnosticato il tumore dopo che per 15 anni ha usato il cellulare per più di tre ore al giorno senza protezioni. La sentenza riconosce il legame causale tra un tumore al cervello e l'uso di un telefono cellulare, spiegano gli avvocati Renato Ambrosio e Stefano Bertone, che hanno vinto la causa. Il verdetto è stato emesso dal giudice Luca Fada del Tribunale di Brea lo scorso 11 aprile. Il dipendente della Telecom, Roberto Romeo, che si era malato di un neurinoma, spera che la sua causa e la sua esperienza siano d'aiuto. Non voglio demonizzare l'uso del telefono cellulare, ma per evitare quello che mi è successo bisogna saperlo utilizzare in modo corretto. All'inizio pensavo di essermi preso un'infezione all'orecchio, ma poi ho capito che la cosa era ben più grave. Speriamo che la sentenza spinga ad una campagna di sensibilizzazione che in Italia ancora non c'è, così afferma l'avvocato Stefano Bertone. Le sentenze si leggono con attenzione, premette il direttore generale dell'INAIL Giuseppe Lucibello, intervenendo a margine dell'inaugurazione della nuova sede regionale dell'INAIL, da oggi tornata dopo 30 anni, in corso Galileo Ferraris I. Ci sono evidenze scientifiche non consolidate e opinioni mediche che vanno ancora indagate. L'utilizzo degli apparecchi tecnologici richiede accortezze, ma sul nesso tra tumore e sovraesposizione non c'è parerunanime, dice Lucibello, che aggiunge, a tutela dei nostri 700.000 titolari di rendita dobbiamo garantire univocita di trattamento. Ci vuole un consolidamento scientifico che ci consenta di andare oltre al caso specifico.